Appuntamento con la Lidica Nazionale Storica martedì 2 agosto prossimo alle 20.30 al Teatro Comunale Eschilo di Gela. L'ingresso è gratuito. Sarà portata in scena la traviata di Giuseppe Verdi. Saranno presenti personalità della Lidica fra le più noti ed importanti del panorama internazionale. L'iniziativa, promossa dalla Mediterranean Opera Studio di Filadelfia, direttata dal tenore Jack Livigni, è stata presentata oggi dall'artista Giovanni Giudice del Comitato Cittadino Difendiamo la Bellezza. Un'associazione di lirici internazionali bussava alle nostre porte già da un anno che non hanno appunto avuto poi seguito attraverso i loro contatti con l'assessore e noi come cittadini igelesi abbiamo voluto dare un'immagine e ricucire quello che sarebbe stato anche un incidente diplomatico. Ma, ripeto, la cultura unisce tutti quanti. Noi non siamo qui per dire o fare uno strumento contro la politica o contro l'amministrazione che anzi ci ha concesso e la ringraziamo per il Teatro Eschilo perché martedì giorno 2 alle 8.30 di sera si fa lo spettacolo. Bensì vogliamo lanciare un monito e anche una idea che in città la cultura è di tutti non è solamente di chi fa politica, la politica siamo noi i cittadini che crediamo in una città che ha tante cose da dire. È una cosa che mi colpisce molto, di cui sono contento anche perché so come la lirica porta questa passione che forse è anche un'eredità della gente italiana e quindi vedere come la gente si entusiasma per l'opera e a tutti i costi vuole portare questo patrimonio di nuovo in vita qui nella città di Gela per me è una cosa molto bella. Abbiamo lottato per un anno per prepararci, portare un'orchestra, uno scenografo per preparare l'opera per esibirci qui e siamo contenti che siamo riusciti a farlo nonostante difficoltà che magari nascono con l'organizzazione eccetera però alla fine siamo riusciti tutti quanti assieme. Giacomo Giurato, presidente dell'associazione Admo. Io sono stato coinvolto nelle doppie vesti e di presidente di Admo perché è stato scelto come social partner di questo evento e anche come componente del coro polifonico Perfetta Letizia che in questa città si è sempre distinto perché ha organizzato degli eventi straordinari è stato il primo coro che ha organizzato l'opera lirica Gela Mena tre anni fa che ha avuto un successo straordinario alle Mureti Moliontè e quindi questo mio convergimento è doppio e triplo perché avrò il piacere di presentare la serata e di accogliere questi amici americani che tra l'altro hanno dei curriculum straordinari e questi artisti che vanno in giro per il mondo a fare questi stage a raccogliere e a curare, a prendersi cura dei talenti che è un motivo importante per raccoglierli in un grande abbraccio io penso che Gela lo farà martedì sera